Ciao, sono Salvatore Randulla e mi occupo di computer da quando avevo dieci anni. Probabilmente avrai sentito parlare del telefonino cellulare, che è praticamente un telefono a cui manca il filo ed è composto praticamente dalla sola cornetta. Lo chiamano telefonino per distinguerlo dal telefonone, che è più grande, anche se in sincerità io un telefonone non l'ho mai visto. Probabilmente anche tu che stai guardando magari possiedi un telefonino tutto tuo. Beh, ti voglio rivelare un segreto. Anch'io come te all'inizio ho pensato che fosse un attrezzo destinato alle persone molto ricche, altrimenti non mi capacitavo di come si potesse e dovesse ricomprarne uno nuovo dopo soli due giorni di utilizzo perché moriva. Al quinto acquisto ho avuto un dubbio. Forse che quel fermacarte nero dentro alla confezione possa servire anche a qualcos'altro? Ebbene, la risposta è sì. Dentro al telefonino ho scoperto esserci una batteria e può essere ricaricata con quel fermacarte nero che noi per comodità chiameremo caricabatterie. Come ho fatto a scoprirlo? Dopo un paio di settimane, per caso, ho fatto qualcosa che di solito nessuno fa. Ho letto le istruzioni. Col telefonino cellulare puoi fare veramente di tutto. Fotografare il tuo cane, fotografare una valigia, fotografare una mozzarella, navigare su internet, guardare un video su YouTube, ordinare qualcosa che poi ti arriva a casa che basta una firma e fare tutte quelle altre cose che di solito si fanno anche con la calcolatrice, tipo i conti al ristorante. E ultimamente ho scoperto che la gente lo usa anche in una maniera per me inaspettata. Parlare con le persone molto lontane. Questa cosa viene chiamata telefonare.